Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi è domenica ecologica, ce lo stop al traffico privato con alcune deroghe nella fascia verde. Il blocco, la prima parte del blocco termina alle 12.30, riprenderà poi alle 16.30 per andare avanti sino alle 20.30. Come dicevamo ci sono delle deroghe tra le altre per le auto a benzina Euro 6 e poi ancora per i veicoli elettrici, ibridi, a GPL e a metano. Via libera anche ai veicoli con contrassegno disabili, a quelli dei servizi di sharing, ai ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi e alle moto a 4 tempi Euro 3 e successive. la mappa della fascia verde e l'elenco completo delle deroghe su romamobilità.it